Buonasera, buonasera, benvenute in queste chiacchiere notturne che iniziano alle 10 di sera ragazze, alle 10 perché ho finito adesso di fare tante cose tra cui lavorare, fare delle commissioni, insomma varie cose quindi alle 10 ci stiamo preparando la cena e così vi racconto anche come è andata al compleanno insomma che regalini ho ricevuto, poche cose ma dalle persone giuste e preparo appunto la cena, quindi ci teniamo compagnia con delle chiacchiere ho preso una zuppa alla contadina, credo che questa sia quella del Penny Market e quindi la andiamo a trovare, se non hai visto lo svuoto alla spesa del Penny Market e ti piace questa tipologia di video, la trovi qua nel frattempo ho anche comperato una padella nel frattempo, in questi giorni ho comprato anche una padella la qualcosa mi ha reso super felice, mi piace, non è una padella è una pentola e ragazze da Scalo Milano ho comprato questa lagostina non mi ero nemmeno resa conto che fosse lagostina cioè voi quanto pensate che abbia potuto pagare una lagostina? cioè io sono andata in altri negozi perché mi serviva la pentola e ho detto no, tipo non la compro perché ho bruciato una pentola lo stesso giorno in cui ho rotto il frullatore, vabbè e quel giorno lì appunto in cui ho bruciato quella pentola era tutta incrostata, era già un po' vecchiotta era antiaderente, quindi si stava già scrostando l'ho buttata e sono rimasta con un pentolino di questa dimensione poi ne ho uno più grande, uno per cuocere la pasta però di solito me ne servono due perché magari in uno faccio un po' di sugo nell'altro appunto metto a cuocere la pasta e uso questi piccolini da single prima no, prima usavo i pentoloni quando vivevo con Pablo però adesso appunto uso i pentolini e ho detto no, piuttosto che spendere tipo 30 e rotti euro che erano tutte le pentole che trovavo che non fossero proprio orribili ma neanche tutta sta bellezza erano dai 25 ai 30 euro in su e quindi ho detto no vabbè rimango con una mi sono detta la comprerò quando la trovo magari ad un buon prezzo un'occasione eccetera diciamo che fare economia saper spendere un po' i soldi a mio avviso sta anche nel non essere diciamo non andare subito a comprare un qualcosa anche se ci serve cercare di aggiustarsi e guardarsi un attimino intorno per i prezzi a meno che non sia qualcosa che è proprio proprio indispensabile cioè ti si rompe il frigo capisco che sei abbastanza costretto a correre e ripari subito però io con la pentola grande e una piccolina potevo farcela quindi sono andata da Scalo Milano entro tipo da cosa poteva essere Casanova c'è un negozio che vende tutte cose tipo pentole eccetera potrebbe essere l'outlet Casanova ma non ne sono sicura e prendo questa pentolina l'agostina l'ho visto a casa che era l'agostina ragazzi l'ho pagata 11 euro 11 euro e pesa sapete che le pentole pesano no? se sono buone adesso noi ci andiamo a fare la zuppa contadina poi farò del pollo e dei pomodori adesso la metto sul fuoco e torno da voi a chiacchierare ok dovrebbe cuocersi nel giro di 8 minuti quindi abbiamo veramente pochissimo per preparare un'insamata di pomodori e del pollo andiamo i pomodori di stagione me li ha dati Christopher nel senso che li ha comprati sua mamma per lui da un fruttivendolo dove loro comprano la frutta e la verdura che è molto caro ma è roba molto buona ok? la madre ogni fine settimana quando andiamo a trovarla cioè nei fine settimana in cui andiamo a trovarla gli fa un po' di spesa di cose buone così è molto carina no? e lui molto spesso ahimè dimentica le cose qua a casa da me la mattina del lunedì quando va via dovrebbe portar via la sua spesa e questa settimana se l'è dimenticata mi ha lasciato dei pomodori e delle clementine quindi e delle uova prese dal contadino peraltro dalla sua nonna e quindi niente dovrò sacrificarmi a mangiare i pomodori buoni ultimi della stagione mi spiace troppo mi sento veramente in colpa li lavo, li affetto e vi racconto allora vado a asciugare la ciotolina in cui faccio l'insalata di pomodori e mi metto ad affettare allora compleanno mi sono svegliata la mattina del mio compleanno super malinconica ma non per il mio compleanno a me non importa particolarmente il fatto di compiere 52 50 45 insomma certo ne vorrei 30 sinceramente tipo se dovessi scegliere tornerei a 28 però in realtà ragazze non per una questione di estetica cioè se mi dicessero vuoi tornare a 28 col viso di oggi con il corpo che hai oggi e il viso di oggi io probabilmente non solo sarei felice ma probabilmente sceglierei di rimanere così come mi vedo perché sono abituata a questo mio viso non so se mi rivedrei col viso di allora eccetera però ci tornerei volentieri per il fatto proprio di avere tutta la vita ancora davanti è un po' il discorso che facevamo in quel video in cui vi ho detto che spesso sono preda di queste malinconie e infatti la mattina del mio compleanno ero in quel mood ma non per il fatto che fosse il mio compleanno cioè non era una cosa che siccome era il mio compleanno riflettevo sul tempo che andava ero già in scia da quell'altra volta in cui vi ho detto tutte quelle mie riflessioni se volete vi lascio il video qua ne abbiamo chiacchierato ci sono stati anche tantissimi commenti molto carini e molto di supporto che mi hanno fatto sentire parte di una community di donne che in sostanza hanno le mie stesse paure questo malcomune mezzogaudio ha funzionato vi devo dire la verità perché mi sono sentita di non essere strana diversa o irriconoscente perché poi sto vivendo un periodo della vita molto bello una persona che mi ama tantissimo e mi fa sentire veramente una vera principessa cioè cosa potrei volere di più se non il compagno amorevole che ho che veramente mi tratta mi tratta come una principessa ma ragazzi io non parlo di di cose tipo che fa che fa da morire regali e viaggi in cui che organizza per me serate che organizza per me fiori che mi manda ogni 13 del mese lui fa tantissime cose ma la cosa proprio che mi fa sentire felice è che mi sento veramente ascoltata veramente capita a livello emotivo c'è proprio un'attenzione nei miei confronti e questa è la cosa molto importante tutto il resto è bellissimo è graditissimo e fa sicuramente la sua parte non mica voglio fare la ipocrita qui queste cose non fanno piacere mi fanno estremamente piacere però quello che fa veramente la differenza è questo tipo di discorso ok il fatto che mi sento ascoltata capita supportata che so che c'è sempre qualcuno che se io non chiamo se non mi faccio sentire se mi si scarica il telefono e rimango qualche ora senza cellulare so che c'è qualcuno che si preoccupa per me che sarebbe disposto a prendere la macchina in piena notte e a raggiungermi se solo sapesse che sono a casa che piango perché sono triste e questa cosa è molto bella quindi non voglio sembrare irriconoscente pensare ma perché allora se è tutto questo se è così non lo so probabilmente sono gli ormoni in subbuglio ragiono spesso sul fatto di non avere diciamo che è una fase della vita diversa no da figli che eravamo quando eravamo giovani passiamo ad essere degli adulti che non hanno più genitori o che hanno genitori molto vecchi qualcuno dei genitori magari è purtroppo deceduto ti senti un po' solo al mondo ecco ho delle care amiche poche due o tre che sento molto spesso ma le sento telefonicamente perché hanno la loro vita non lo so tutto giustamente i loro figli i mariti ma come ce l'ho io alla fine di tutto no tutto questa volta mi mette una tristezza mi sembra che il tempo mi stia sfuggendo di mano ragazzi guardatevi il video se vi va ne abbiamo parlato quindi non vi voglio tediare con questa cosa però mi sono svegliata un po' così il giorno del mio compleanno un po' sottotono diciamo nel frattempo la zuppa sta bollendo e io prendo l'olio e il basilico perché la mia piantina il basilico non l'ha capito che siamo quasi in autunno per andare verso l'inverno diciamo cioè che siamo in autunno e stiamo quasi in inverno non l'ha capito ancora delle foglioline quindi vado a cogliere le foglioline sale, olio e condisco i pomodori così appena la zuppa è pronta faccio due fettine di pollo e ci sediamo a chiacchierare e mangio basilico colto quella piantina è bellissima nella sua speranza di vivere ancora ma no però insomma che profumo che ha ancora questi pomodori poi sono profumatissimi e quindi adesso aspetto che sia cotta la zuppa che finalmente sapete che ha i cubetti tutti ghiacciati si sono tutti sciolti io direi che in 5 minuti e la levo ok vedo il timer lì così nel frattempo vi racconto com'è andata la giornata metto via questo apparecchio e vi racconto peraltro Christopher l'altro giorno ha lasciato anche un pan giallino non so se siete della zona di pavia dintorni ha portato sia agli ossi dei morti cioè la mamma ci ha preso in pasticceria sia agli ossi dei morti che ai pan giallini e lui ha lasciato qui quando è andato via uno dei pan giallini gli altri ce li ha mangiati per quello vi dico che nei vlog precedenti credo di avervelo detto perché abbiamo avuto dei weekend pesanti che c'erano i pan giallini che sono questi e che profumo e anche i i ossi dei morti che le ossa dei morti perché sono ossi sono quelli dei cani ossa dei morti buonissimi mi sono piaciuti molto quindi ho fatto onore alla tradizione pavese comunque il giorno del mio compleanno Chris era qua perché il mio compleanno cascava di lunedì e siccome lui di solito lunedì mattina prende e va via giustamente perché dopo che se passa il weekend qua ma comunque anche quando passiamo il weekend a Como lui poi la sera della domenica mi riporta a casa e dorme qua lunedì mattina e va via questo ipad continua a staccarsi a riattaccarsi mi fa impazzire ok e niente quindi praticamente non è andato via è rimasto qua tutto il lunedì quindi anche se ha lavorato ci siamo tenuti compagnia durante la giornata io ho colto l'occasione quel giorno di fare il cambio di stagione in modo da non stare a girare video eccetera che c'era lui che lavorava e quindi mi sono fatta tutto il cambio di stagione il mio decluttering dei maglioni eccetera eccetera e poi la sera la mattina a colazione mi ha dato il regalo che adesso vi faccio vedere e poi la sera siamo andati invece a cena quindi uno dei regali era che avevo organizzato una cena e cenetta per noi in uno dei locali migliori di Milano dove mangiare la carne alla braccia si tratta di Nero 9 se mi seguite su Instagram mi trovate come Saido io ho fatto un reel perché quel posto è veramente notevole è un posto dove si mangia la fiorentina quindi la carne con l'osso e tanti tagli pregiati di carne come l'angus la piccagna buonissima il filetto di manzo al tartufo al pepe verde cioè delle cose di carne veramente cioè la carne più buona dell'universo ovviamente non è un posto per gente che non mangia carne i primi sono praticamente un piccolo contorno c'è pochissima scelta giusto se uno ha un po' di fame in più prima della carne ma diciamo il piatto forte è la carne tanto che ci sono tantissimi tagli tra cui scegliere tutte le tipologie proprio di razze diverse ed è un posto veramente bello molto intimo molto raccolto è in Brera cioè in Brera in attraversa di Corso Garibaldi quindi il super centro non è un posto economico ma è un posto dove si mangia molto bene quindi ve lo raccomando diciamo che è uno di quei posti dove magari festeggiare un anniversario un compleanno importante e così via insomma non è diciamo l'attrattorio il posto dove magari si può andarmi in settimana ecco quindi è stato super carino perché eravamo già stati in questo posto e lui sa che è proprio uno dei miei ristoranti preferiti quando ci sono stata la prima volta sono rimasta sconcertata dalla bontà del cibo e quindi avevo organizzato la cenetta lì quindi primo regalino appunto la cenetta e poi mi ha appunto dato l'altro regalo che mi aveva fatto ossia mi ha regalato il viaggio che appunto stiamo facendo probabilmente mentre ci sarà questo video noi saremo in viaggio quindi magari se mi seguite su Instagram avrete anche visto dove siamo giro la minestra e quindi il viaggio la cenetta invece la mattina mi ha dato il regalo che vi faccio vedere lui sapeva che era una cosa che avevo preventivato di regalarmi per il compleanno o per Natale e quindi me l'ha presa lui si tratta dell'Apple Watch eccolo qua me l'ha preso in questa misura che è perfetta per il mio polso credo che sia 41 e con questo bracciale che era diciamo l'unico che a lui piaceva poi ovviamente posso cambiarlo comunque posso prenderne di altri più di mio gusto ma lui così dice ma a me questo piace moltissimo perché appunto riesco senza dubbio a metterlo con tutto poi stamattina mi è arrivato un pacco da Amazon sempre ordinato da lui con i gusci in modo da poterlo proteggere quindi poi dopo glielo vado a montare quindi insomma super contenta di avere l'Apple Watch aspetto di come si dice connetterlo con il mio cellulare insieme a lui perché io su queste cose perdo la pazienza quindi niente super contenta veramente di questo regalo cioè che onestamente non pensavo che me lo prendesse perché sapeva che me lo volevo prendere io quindi ha anche rischiato perché avrei potuto prendermelo per il compleanno probabilmente ha visto che non l'avevo preso perché se no gliene avrei parlato essendo lui super appassionato di orologi lui è proprio pazzo per gli orologi gli piacciono fin da quando era bambino e ha questa passione da sempre e quindi probabilmente insomma vuole contagiarmi quindi questa è la scatola e questo è appunto il cinturino mi ha preso sia ovviamente l'Apple Watch che il cinturino fa un sacco di cose lo sapete l'Apple Watch ma penso che tante di voi ce l'abbiano quindi comunque va anche a vedere tutte quelle che sono le funzioni per lo sport io lo vorrei utilizzare tantissimo anche da quel punto di vista quindi molto molto felice questo quindi ah no ero bagnato vabbè è acqua lo poggio qua sopra e vado ad asciugare qua perché ho lavato tutti gli accessori della aspirapolvere ed erano là sopra su un panno ma evidentemente hanno bagnato anche il marmo ok ho preso il pollo vediamo quanto ne rimane nel frattempo la zuppa dovrebbe essere cotta perché sono passati gli otto minuti vediamo quanto pollo mi resta metto a scaldare la padella che buona che deve essere sta zuppa ragazze ha un aspetto ottimo la trasferisco nel piatto io ho i piatti neri di Ikea e questa dovrebbe essere secondo loro una porzione per due persone ma io la mangio sempre tutta perché è un bel piattone secondo me che basta per una persona insomma che mangia certo non una persona di scarsissimo appetito però secondo me è una porzione cioè lo vedete è una porzione loro la danno per due ma secondo me per due è troppo poca quindi adesso vado a aumentare il gas così si scalda la padella e peso il pollo questa è la mia cena la mamma di Chris mi ha fatto un regalo probabilmente Christopher le ha raccontato che io ho la passione appunto per le piante ne ho poche in casa perché ho la casa piccola però ho un tranchetto della felicità ragazzi che sta arrivando al soffitto è appoggiato qua su uno scaffale era piccolino così quando l'ho preso è gigantesco poi è un ficus benjamin una felce è una che non mi ricordo mai come si chiama di effembacchia che sta sempre sul punto di crepare però non è mai più tornata bella era entrata in difficoltà durante un'estate credo di due anni fa e poi è sempre lì che è così la mamma di Chris mi ha regalato un bonsai bellissimo esattamente un ficus microcarpa ginseng ve lo faccio vedere eccolo qua è bellissimo guardate quanto è bello il tronco è stupendo il tronco bello 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 spero di trattarlo bene è sopra la mia scrivania proprio davanti alla finestra quindi ben illuminato spero che si troverà bene datemi tutti 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 i consigli del caso perché non ho avuto tanti ginseng scusate non ho avuto tanti bonsai ne ho avuto uno piccolino qualche anno fa ma me l'hanno praticamente rubato subito l'avevo messo sul davanzale anche se era dentro la finestra con le grate qualcuno è riuscito a infilare la mano e me l'hanno rubato poi ultimo ma non ultimo mi sta devo mettere la carne scusa ok sono 160 grammi di carne quindi direi che va benissimo mio fratello dicevo mi ha mandato un buono amazon quindi ho un buono amazon da spendere sono molto contenta perché mi servono alcune cose tecnologiche mi servono degli accessori per la macchina fotografica con cui faccio il vlog quindi diciamo che mi servirà senz'altro il buono mio fratello poi compra praticamente tutto da amazon lui e christopher sono mio fratello malato di amazon e christopher malato di zalando compra tutto da zalando o da jack and jones per quanto riguarda l'abbigliamento niente lui oltre a questi due siti non va però poi c'è stato un brand ragazze carinissimo grazie marco di charlotte tilbury ciao amore grazie mille che mi ha mandato un pacco gigante che è proprio arrivato il giorno del mio compleanno quindi grazie per questo regalo di compleanno bellissimo vi faccio vedere che cosa mi ha mandato dopo cena si ceno e vi faccio vedere chiacchierando anche i regali di charlotte ecco qua ho cenato aspettate che vi raddrizzo ok ho cenato e voglio preparare una frittatina metto bene anche la luce ok perché domani appunto l'aereo ce l'abbiamo alle 22 e 30 se non sbaglio me l'ha detto chris ma mica me lo ricordo vediamo 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 22 e 25 mi pare ha scritto diciamo che se si ricorda bene dovremo cenare in aeroporto poco prima dell'imbarco e se ci fanno se non i panini dovrebbero passare tranquillamente e quindi possono essere imbarcati per cui li possiamo mangiare o a bordo mentre aspettiamo di imbarcarci non possiamo mangiare invece portare cose liquide a meno che non siano di 100 grammi allora quello si 100 ml insomma quindi se chris vuol portare dei dessert così li deve mangiare prima di passare il controllo diciamo per cui voglio fare dei panini perché i panini mi sono informati e ho letto che possono passare tranquillamente devono essere ben sigillati quindi li sigillerò bene con la carta la plastica non credo di poter usare la stagnola per via proprio dei metal detector però appunto li sigillerò con la carta la pellicola e ci voglio mettere del affettato di tacchino e la frittatina quindi voglio fare appunto una frittatina ci metto un uovo ok poi ho un pochino di pecorino romano quindi siccome la voglio fare un pochino saporita ci metto un pochino di pecorino poi ci metto un pochino di albume vediamo di prendere la bilancia e direi che magari metto tipo 50 grammi di albume ok abbiamo fatto 65 e per terminare ci metto un pochino di farina questa cosa della farina me l'aveva detta una di voi e da allora la faccio sempre perché aggiunta le frittatine le fa gonfiare e diventare morbide morbide quindi tipo così un cosino di farina scarso proprio tipo un cucchiaio raso di farina per un quantitativo del genere adesso vado a sbattere tutto ungo la padella e vediamo come vengono la padellina piccola piccola questa che è quella che usavo anche per fare i pancake dovrebbero venire delle frittatine piccoline magari ne faccio tipo tre e poi le taglio a striscioline e ci condisco bisogna fare due sfilatini così con la frittatina nel caso ci metto la schirella e il pomodoro il tacchino e la mozzarella e la frittatina appunto bene andiamo a sbattere ok per quanto riguarda il clima ci dovrebbe essere lo stesso identico clima che c'è a Milano cioè freddo non proprio freddissimo perché questo ancora non è freddo ci aspetterà qualcosa di molto più intenso lo so come ogni anno per il momento stasera però c'erano tipo 9 gradi e io già sento freddo poi più che altro mi rompe la pioggia cioè la pioggia è proprio l'unico agente atmosferico che detesto con tutta me stessa a seguire il vento mi dà molto fastidio la pioggia mi piace solo se devo stare a casa ecco se tipo sono a letto che dormo che guardo la tv che leggo un libro vento pioggia e tempesta mi piacciono tantissimo però se devo uscire la pioggia proprio mi rompe le scatole tantissimo quindi no bene adesso ungo la padella e faccio la frittatina vediamo come viene peraltro ho solo il fuoco grosso della cucina che funziona gli altri si sono rotti quando passa il signore quello che dice ripariamo cucine a gas devo chiamarlo ehi ok padellino sul fuoco ho questo spruzzino ve l'ho detto che ho optato per lo spruzzino ragazzi è una figata perché mi consente di dosare veramente pochissimo olio ed è una cosa super utile vedete faccio così ed è veramente super utile per ungere le padelle e adesso vado a mettere tipo metà composto sarà già caldo secondo me si ok speriamo che non sia troppo alto gli devo mettere un coperchietto non so se ce l'ho così piccolino se ho questo dovrebbe andar bene vediamo come viene l'esperimento e dopo questa sessione di cucina vi faccio vedere Charlotte Tilbury c'è tipo di tutto un po' in questo in questo sì in questo beauty in questo video vedete come si gonfia con la farina cioè viene proprio questa frizzatina fighissima cioè bellissima grazie alla ragazza che me lo aveva suggerito veramente grazie perché io ho apprezzato da quella volta faccio sempre così adesso riungiamo la padella e andiamo con la seconda fritta c'è un g ok ok vado a coprire vedete ragazzi questa è la frittatina troppo carina che io lascio qua a sfreddare ed è pronta per i nostri panini di domani butto via il guscio dell'uovo domani mattina devo passare al Carrefour dove mi è arrivato un pacco che devo ritirare e compro anche appunto il pane e il tacchino così appunto ce li ho ce li ho pronti bene adesso sforno questo sforno scodello spadello 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 questa frittatina vi faccio vedere le cosine di charlotte ok frittatine pronte ma sono carine ma se non vengono bellissime cioè se la ragazza che mi aveva suggerito del cucchiaio di farina si ricorda di sta cosa io ti ringrazio ancora oggi perché da quella volta mi hai cambiato il modo di fare la frittata non viene più asciutta ma viene bella soffice un'altra roba proprio un profumo pazzesco col pecorino poi viene anche un po' gustosina non ho messo sale e c'è appunto il pecorino un uovo in due fa in modo che vengano meno grasse perché è un uovo diviso in due l'albume è magro e quindi ci sta poi comunque ci metto il tacchino che è magrissimo e così si equilibra anche la schirella è super magra quindi alla fine viene un panino carboidrati grassi e proteine giusto mi faccio una tisana con la camomilla e limone che io amo e vi faccio vedere tutte le cosine del ordine cioè dell'ordine del pacco che mi è arrivato in regalo da Charlotte Tilbury quindi una che buon odore la camomilla una bustina di camomilla metto a bollire l'acqua e torno da voi oggi ho bevuto pochissimo perché sono stata molto in giro e non ho bevuto per niente quindi un bel bicchierone di tisana va benissimo anche per cercare di bere quindi se fate fatica con l'acqua almeno d'inverno fatevi tisane magari non troppo te che se no vi agita però tisane magari senza teina vanno bene allora metto un timer perché mi si è rotto il display del microonde quindi ignoro assolutamente quanto ci metta e mi aspetto un pochino di limone faccio così di solito e poi lo spremo dentro adoro la camomilla con limone mi ricorda la giovinezza quando la bidella della mia scuola ce lo faceva quando ci veniva il ciclo troppo figa quella bidella era simpaticissima bene adesso il tavolo è pulito vi faccio vedere che cosa mi ha mandato Charlotte Tilbury Marco di Charlotte Tilbury che ringrazio ancora allora mi hanno mandato la nuova crema di Charlotte che è la magic water cream super idratante molto leggera è una crema idratante in gel non so se tutte voi conosciate la famosa magic cream di Charlotte ma è bella ricca io mi sto portando peraltro in viaggio i campioncini che mi aveva dato quando avevano fatto l'evento in piazza gaulenti a Milano mi aveva dato i campioncini delle cremine ve l'avevo fatto vedere e adesso mi tornano super utili ed è quella bella corposa però questa è una città fredda e quindi ci sta benissimo una bella crema ricca però non so se questa la utilizzerò adesso se la destinerò verso primavera anche perché adesso ho la magic cream grossa aperta e quindi ve la faccio vedere però perché magari qualcuna di voi sta cercando una crema più leggera è innamorata della magic cream ma magari la trova troppo corposa questa è una crema appunto fatta in questo modo è una novità in casa Charlotte forse vediamo se è calda no era appena appena tiepida e io vi lascio il link di tutto quello che vi sto dicendo o vi sto lasciando vedere in questo video peraltro c'è attualmente la super promo sephora per cui avete sulla skin care e sul make up un sacco di sconti vi lascio scritto in info box perché finisce il 12 la promo e quindi sabato non so se quindi oggi metterò che quando metterò online il video sia sabato potrebbe essere non lo so non so esattamente come metterò online il video però se oggi finisce oggi e sono i single day e c'è questa promo pazzesca la sveglia del microonde c'è questa promo pazzesca per cui praticamente ci sono super sconti su un sacco di categorie anche su brand che di solito non sono ricompresi ragazze non mi ricordo su charlotte come siamo messi però vi lascio tutto in info box mentre per quanto riguarda il make up mi è arrivato un bel po' di cose perché questa doveva se non sbaglio è l'unica cosa skin care mentre mi è arrivata una una roba meravigliosa ragazze si chiama the beautyverse palette quindi il multiverso ha contagiato anche charlotte e beautifying filter for your eyes quindi un filtro di bellezza per i tuoi occhi eccola qua la confezione già ci fa capire quanto lusso quanto sparkling quanto luccicore in questa palette qua come vedete c'è un'anticipazione della scelta gamma appunto di colori guardate quanto è bello solo l'occhio che è disegnato qua dietro questo brand è proprio lussuoso mi piace ad impazzire il mood di charlotte palette dietro ok guardate quanto è bella ma sto aspettando di fare così per fare l'effetto wow ed è sbang questo è veramente scusate nel frattempo ho preso l'acqua per la camomilla ed è bollente sapete cosa vi dico che metto due filtri perché è veramente un tazzone gigante se no non sa di nulla così almeno spero di tranquillizzarmi a meno che non sia vera quella diceria che dice che se prendi troppa camomilla forse se la fai infondere per troppo tempo ha un effetto eccitante anziché rilassante vabbè cerchiamo di non farla rimanere troppo tempo magari metto tipo un timer cosa dice di tenerla in infusione per 6 minuti molto bene quindi la terrò per 6 minuti facciamo così ok 6 minuti stavo aprendo questa meraviglia tatan cioè io non ho parole veramente cioè quanto è bella mi è caduto il foglietto lo rivolgo cioè quanto è bella è pazzesca ragazzi pazzesca è veramente bellissima queste tre shade di marrone che degradano da un più chiaro fino al più scuro questo colore bellissimo secondo me per sfumare nella piega mi piace l'idea di sfumare uno di questi marroni con un po' di rosa ammorbidirlo e poi tutto questo glitterame da mettere al centro dell'occhio è meravigliosa voglio recuperare la cartina perché questa la vorrei utilizzare insieme a voi in un video e ci sono appunto tutti i nomi dei prodotti virtual taupe che è un future matte quindi appunto opaco e poi ci sono invece i crystal glow i party topper e quindi ecco come vedete sono tutti future matte questi qua matte future matte future matte future matte future matte questi sono tutti crystal glow questi scusate questo centrale e questi sono tutti crystal glow mentre questo è un party topper bellissima cioè non vedo veramente l'ora di vedere con voi come sono sull'occhio poi questa è una delle cose in assoluto più belle che ho ricevuto nella mia vita cioè make up posa poi ho avuto il un altro questo è il secondo in ordine di bellezza il il kit che si chiama charlotte esagerize beauty secret contiene la palettina e la matita andiamo a vederla insieme allora la matita questa qua che è praticamente una matita doppia che ha da una parte il kajal nero si che si chiama hollywood exagerize liner duo scusate ma faccio fatica a far ruotare e vedere come si chiama perché è super dorato e quindi io vedo poco e niente quando non ho una luce pazzesca che mi illumina tutto da questa parte invece che su fondo chiaro lo leggo molto meglio hollywood exagerize liner duo metallic quindi da questa parte è metallizzata sul dorato e da questa parte invece è matt ed è nera quindi insomma immaginiamo di poter fare una fine dell'occhio con la matita nera anche interna alla rima e magari delineare l'inizio dell'occhio sotto l'occhio all'inizio con la parte metallica ma andiamo a aprirci questa meraviglia che è appunto l'exagerize bigger brighter eyes filter il mio inglese è terribile ma non importa perché ci capiamo lo stesso ci capiamo quanto è bella questa è la classica palette perfetta per chi vuole fare dei make up super basic allora ecco così si vede meglio perché se la metto così la luce gli fa sembrare non del giusto colore invece questo è più scuro questo è un pochino più chiaro ma si tratta di un matt questo qua mentre gli altri sono tutti quanti come vedete dei satinati ecco così probabilmente si vede meglio questo è un matt ma è un po più scuro di come lo vedete qua perché ci batte la luce è così ecco è più questo colore quando inclino gli altri più o meno rendono l'idea bellissima questa palette poi queste sono talmente piccoline pratiche meravigliose abbiamo un trio di mini rossetti quanto siete carini si chiama charlotte iconic devo togliere la camomilla però allora dicevo che questo kit si chiama charlotte's iconic mini lip trio perché appunto è un trio di rossetti dove abbiamo due matt revolution che sono pillow talk 2 medium e walk of no shame e poi kissing invece che è praticamente l'altro rossetto allora ve li faccio vedere ma non vi faccio gli swatches perché appunto voglio farveli vedere poi in un video magari appunto andiamo a swatcharle e a provarli quanto sono belli e piccolini ma belli 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 pillow talk medium è uno dei miei rossetti preferiti perché è proprio il nude perfetto per chi non vuole appunto il ed è questo che vi ho fatto vedere per chi non vuole quel nude rosato tipico di pillow talk che è molto bello ma per le ragazze un po più chiare di me questo qua invece è uno dei rossetti della linea kissing in stoned rose se non sto sbagliando ma leggo malissimo perché appunto non ho abbastanza luce ed è questo colore meraviglioso questo non ce l'avevo mentre gli altri due li ho forse in entrambi sia nella versione nuova dell'airbrush non mi ricordo come si chiamano insomma quelli fatti tipo gloss che sono usciti da poco cioè intendo dire tipo rosetto liquido sia nella versione in bullet cioè così praticamente mentre questo non ce l'avevo il kissing e poi per ultimo appunto questo che è appunto l'altro che è il walk of no shame questo qua che è una specie di rosso labbra molto molto bello quindi se volete provare dei rossettini di charlotte prendendo magari tre colori comunque iconici senza andare a spendere il prezzo del rossetto intero grosso full size o volete fare un regalino ma comunque super lussuoso perché vedete che sia il pack che il rossettino in sé veramente super curato e carino beh questa è un'idea poi il famosissimo pillow talk push up lashes mascara in versione travel e io sto conservando in un cassetto tutte le travel sites in modo da poter avere sempre qualcosa da portarmi in viaggio questo è uno dei miei mascara preferiti in assoluto e in questo momento però sto usando una full size e quindi non inaugurerò questo mascarino perché se lo apro poi si va a seccare non ha senso me lo tengo diciamo così quindi se farò il video comunque vi mostrerò la full size che in questo momento ho proprio in uso quindi lui se volete provarlo spendendo meno o fare un regalino poi c'è l'altro set fighissimo che è questo che è il pillow talk beautifying lip cheek secrets cioè è un mix tra labbra e guanciotte e contiene appunto la matita pillow talk normale classica con il rossetto matita e rossetto proprio nel colore pillow talk che non so se utilizzerò perché ripeto i miei favoriti sono pillow talk medium sia la matita del pillow talk normale con rossetto sia la matita pillow talk medium con rossetto medium cioè per me sono i favoriti mentre questi due prodotti sono meravigliosi e anche volendo adatti appunto a me non mi ricordo se io ho questo colore di beauty light wand che è praticamente l'illuminante che è in così come si dice con vi faccio vedere la spugnettina da mettere così che però ha il dosatore cioè questa figata perché io ho sempre paura che in viaggio schiacciandosi con le altre cose nel beauty mi uscisse tutto invece no ha praticamente il cosino che lo girate e blocca la fuoriuscita del prodotto quindi questo è nel colore vediamo se riesco a leggere nel colore pillow talk quindi penso di avere un altro colore aspettate che guardo infatti io ho un altro colore che è goldgasm eccolo qua quindi sicuramente è diverso magari non lo apro e vado a vedere il colore da sephora per capire se mi piace così se devo regalarlo a qualcuno glielo regalo in tonso e poi uno di questi che onestamente io non ho mai provato è che non so in quale colore sia è il pillow talk collagen lip bath che è appunto arricchito con collagene un lip plumping un effetto lip plumping arricchito appunto di collagene per labbra rimpolpate ed è sempre nella colorazione pillow talk quindi sempre la solita colorazione sono tutte colorazioni sono tutti iconici diciamo sapete che il colore di Charlotte iconico per tutti i prodotti che crea è anche il nome iconico è pillow talk tant'è vero che anche il mascara si chiama pillow talk push up lashes mascara poi per terminare ho ricevuto una doppia travel sites diciamo di come si dice al nome airbrush flawless setting spray kit che sono appunto due taglie perfette anche queste da portare in viaggio anche se io ho ancora quelle mini 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 che mi erano state date appunto all'evento lì in piazza gaulenti quando c'era il camioncino dove potevate diciamo tutte le ragazze potevano farsi truccare prenotando e lì avevo ricevuto il flaconcino ancora più piccolo che infatti è quello che mi porterò in viaggio queste diciamo sono confezioni un po' più piccole di quella classica grossa che sto utilizzando che sto per finire quindi stracontenta di ricevere due nuove sites e niente eccole qua nuove di H e super pratiche da aereo perché appunto quell'altra non si può portare credo che superi la sites che si può portare nel bagaglio in stiva anche se adesso un po' le regole stanno cambiando nei vari aeroporti però per esempio noi domani decolliamo da Palermo da Palermo ma perché Palermo perché sempre alla mia testa ciao Palermitane città meravigliosa niente sono stata a Palermo non so se lo sapete a marzo di quest'anno e l'ho amata vi lascio qua il vlog che ho girato penso che mi è venuto in mente Palermo decolliamo da Bergamo e a Bergamo non si possono per esempio imbarcare ci sono ancora le vecchie regole mentre all'aeroporto di Linate e di Malpensa ci sono tutte le nuove macchine che quindi non avete praticamente l'obbligo di tirar fuori i liquidi e credo che si possono portare forse anche più di 100 ml su questo sono indecisa potete portare sicuramente l'acqua quindi sì perché l'acqua è mezzo litro come minimo sì penso che non valga più appunto neanche la questione dei limiti bene ragazze questo è tutto io adesso cerco di bermi questa ustionante camomilla come vedete sono un pochino tappata un pochino ho il mio naso che non riesco bene a parlare perché sono congestionata a quest'ora poi mi è peggioratevolmente vi lascio il link di tutta la sezione di Charlotte dove trovate tutte tutte le novità natale che sono appunto tutti questi kit che sono sempre mega convenienti quando si tratta di provare il brand cioè se una è già orientata a brand aveva già intenzione di prendere qualcosa ha molto senso che approfitti di questo tipo di cofanetti natalizi ma non solo di Charlotte di tutto perché ovviamente costano meno le fanno apposta e quindi fanno apposta queste mini sites sia per poter fare dei regali che per poter autoregalarsi qualcosa a provare il brand spendendo un po' meno poi Charlotte ovviamente lo sapete ha un prezzo medio alto per cui ancora di più se si vuole provare il brand è un'occasione magari per non spendere troppi troppi soldi vi mando un bacio ragazze vi ringrazio di aver visto questo video spero di avervi comunque tenuto compagnia con le mie chiacchiere vi mando un grande abbraccio ci vediamo al prossimo video se vi va potete iscrivervi al canale attivare la campanella lasciare un like al video e tornare soprattutto qui per il prossimo caricamento che vi aspetto continuo a pubblicare video sono molto costante in questo periodo riesco quasi tutti i giorni della settimana tranne sabato e domenica a fare i video e qualche volta quando salto un giorno della settimana magari c'è il caricamento il sabato mattina o il sabato pomeriggio per recuperare quindi spero che questa cosa vi faccia piacere un bacio e alla prossima ciao 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 a tutti i giorni